Qua cosa c'è? Hai visto un qualcosa muoversi? Oltre che un coso disabitato... Non c'è nessun mostro? No? Peccato. Da che parte devo andare io? Su quel ponte ci sono già stato? È esplorabile, sì. Sì, sì. Maledetta... Volpe. Non c'è gente. Ciao. Ciao amici. Non mi interessate. Ma aspetta, là l'ho esplorato quel cosa. Da che cacchio di parte devo andare io? No, perché adesso bisogna di capire. Io vado di qua. È ok? Eh. Chi si è visto, si è visto. Io di sicuro non sono tornato su. Dove... Cosa? E questo chi è? Eh? Ma quando ci sono venuto qua? Oh mio Dio, ma qua c'è l'arena! C'è l'arena qua. C'è l'arena qua. Ah... Adesso... Adesso ho capito. Qua c'è l'arena. No, ma io non devo andare all'arena, che mi sfrantumano. Io voglio andare là. Cioè, io volevo andare sul ponte in realtà. Però di sicuro non ho l'arena. Queste sono queste montagne... troppo alte. Ho bisogno di dungeon io. Mi serve un punto in alto. Ok. Allora, andiamo a cercare un punto in alto. Dove vedere... Dov'è il dungeon? A parte che... È enorme quest'area. È solo un'area questa. Oh, ciao. Oh, ma lì c'è il coso. Quello non è il villaggio? A parte la flotta di pipistrelli. Quello non è il villaggio? Non ci credo. Ma ho ucciso con un colpo. Ma ho ucciso con un colpo! Sapete cosa? Non capisco quando i joystick si stanno per scaricare. Perché... Perché... Fa le luci, ma... Non si capisce. C'è un conto? Magari si sono attaccati alla... Allo schermetto della console. E allora si ricaricano usando... Ce l'hai fatta, eh? Mamma mia! Che parto! Di sicuro non ci andiamo adesso nell'arena. Adesso voglio solo vedere... I sacrari. I sacrari. Che non ce ne sono, quanto pare. Quella che torre... È la mia. Io i sacrari non ne vedo più. Poi dite... Eeeh... No, invece sì. E invece... Se... Ah, è fuori dalla mappa? Niente. Quello, perché? Quello, perché? Perché c'è un punto giallo là? Perché c'è quel punto giallo? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta che cadere qua. Che lì c'è un qualcosa. Alzati un attimo, Link. Forza. Cacca è uno scrigno. Così. Oh, frecce! Ottimo. Le bomba, poi. Che mi piacciono un sacco. Sono bellissime. Questo è quello? Quello è il villaggio dove ero? Ma quello là? Sempre fuori, ma non l'ho segnato io. No, ho sbagliato. Gli ho tirati tutti. Eh, meno. Gli ho tirati tutti qua. Ok. Aspetta che elimino anche il rosso. E va bene. Non c'è un cacchio di dungeon. Zero. Quanti ne abbiamo fatti? Ah, forse... Sapete che forse ne abbiamo fatti quattro? Perché se quattro erano nella prima zona... Quattro forse erano qui. Ce ne sono quattro a zona, quindi? Sì. Non capisco. Forse devo salire più in alto. Forse devo salire più in alto. Oh. 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 Non voglio voi io. Non voglio... Voi. A parte che dobbiamo portargli la carne... Al... Al villaggio. C'era il tipo che voleva la carne XXL. Vabbè ce le abbiamo entrambe. Questo? Questo cos'è? Ci sono delle ghiande... Sparse in giro e ci hanno dentro dei cosi? Ma scherziamo? Cosa me ne faccio io dei coroghi? Dei semi qua? Che cacchio me ne faccio? Quanti ce ne sono poi? Quindi due che erano di meno. E' un altro. Ma ne trovo uno dietro l'altro. Mamma mia. Che cacchio si fa? La tiro. Ah qua sono sopra l'arena quindi. Yeee. Il sasso vola. Mamma mia che roba bella. Che roba bella. Mamma mia. Spettacolo. Posso piumbare sopra quel cervo? Accia! Il predatore... Sono il predatore naturale. Dei cervatti. Dei cervatti. Aspetta quella non è la zona iniziale più che altro. Si di là c'è la zona iniziale. Però io di qua... Non so mica se ci sono andato. Collina melodina. Quelle zone. Che dovrebbero stare dall'altra parte. Sto arrivando volpe. Wiii! Dovrebbe stare completamente dall'altra parte. Ovvero... Di qua devo inclinare... Ok. Per di là. Però aspetta lì c'è la torre. C'è la torre in mezzo. No la torre... La torre sta là. Allora è fin qua. Ok. Per di là. Andiamo. Basta che non ci siano... Ragnetti volanti. Eh? Che al solito... Girano per le pianure. Cavalli! Cavallo mi servirebbe. Mannaggia un cavallo se mi servirebbe. Ci arriverà in tre secondi. Plano dall'alto. Aia. Ah non attacchiamo eh. Io ti faccio saltare per aria. No questo mi sembra abbastanza tranquillo. Ma... Questo maculato. Cavallo. Cavallino. Oh ma qua c'è gente? O ci sono già stato? Oh. Mamma mia. Calma. Calma. Calma, calma. Andiamo. Oh. Mamma mia. Calma. Calma. Calma, calma. Andiamo. Forza così. Ti chiamerò... Francesco. Mercato generale. Cosa? Il mercato? Dove è il mercato? Io odio il mercato. Mi metto in mezzo alla strada e ti traffico dopo. Francesco è un bel nome vero? Potete... 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 Cioè siete d'accordo? Francesco il cavallo. Francesco il cavallo. Aspetta un attimo, Francesco. Aspetta... No, Francesco! Francesco, stai calmo. Stai calmo un attimo. C'è il mio pollame qua. Andiamo, Francesco. Da che parte che mi son perso? Devo girare completamente. Per di là. Ok. Andiamo fra... Opp... Adesso potrei... Anche azzardare una fuga da... Da quei guardiani, allora. No, Francesco! Eh, però non è... Non è molto convinto, eh. Lo vedo un po'... Titubante. E BOOM! E investi i piccioni. Le ho lasciando lì. Togliti! Sto guidando Francesco, non vedi? Anche se mi servirebbe molto. Fermi un attimo, Franco. Eh, calmi. Via tutti qua. Anche le api. Toglietevi. Olè! È Francesco lì che mi aspetta. Dammi qua. Intanto si trovano questi... Sti accampamenti. Vabbè. Se mi date delle frecce... No. Adesso che cerco delle frecce non me le dan più. Mi sembra giusto. Porca miseria. Porca miseria. Spaghetut. Andiamo, Francesco. Da che parte? Su. No. Mi pare di aver visto comunque un... Un santuario. Forse l'ho visto. Aspetta un attimo, girati. Tipo laggiù cos'è? No, quello laggiù. Attenzione. Forse... Forse... Se mi dà l'ok anche il cerca segnalo... Sì, è un santuario. Quello è un santuario. Eh sì. Che è che mi devo avvicinare però per trovarlo eh. Ci sono anche quei cosi. No, sei calmo, Francesco. Come no? Dai, fra. Forza. Forza, Francesco. È lì. Stazione di posta est. Forza, forza. È lì. Cosa è quello? Perché? Ah, ciao. Oh! Oh, la mena! C'è Francesco che combattitente. Cacchio. Si vede che è il mio cavallo. Vieni qua, Francesco. Oh, c'è una casa. Bravo, Francesco. Avventuriero pure. Mi ha indicato... Mi ha indicato l'entrata del... del coso eh. Non so se ne avete notato. No, però... non ci siamo capiti. Allora, se te mi trovi un oggetto... è inutile che... che mi dici che... che lo lasci... cioè non lo lasci lì. Eh... Oh, ciao. Lo levi eh. Aspetta un attimo, Francesco. Perché qua... Si trovano sempre i ciu-ciu. I cosi, scusate. I corogo. Qui? Non c'è niente. Strano. Sta posta est è da esplorare però eh. Perché... è molto sospetta. Però a me adesso interessa il santuario che l'ho perso. Francesco. Ah no, è qua. Sono davanti. No, Francesco, girati. Sono le avventure di Francesco, Derrick. Va sci-riaco. Andiamo, va là. Quanta è? Un'ora e mezza. L'ultimo... l'ultima cosa. Che facciamo? Poi torniamo con Francesco. Andiamo, va là. Oggi mi sento particolarmente musical. È il nuovo santuario. Forse è l'ultimo. Che facciamo? Non è nella zona nuova, vero? Oggi vedo già uno scrignoli. Che diventerà mio. Va sci-riaco. Prova nel nome della dea Ilia. Ok. Il vento mostra la via. Ok, ho già capito. Ho già capito. Qua ci vuole... La paravela. Grazie. L'ambra, vabbè. Questa era facile. Questo era facile. Eh sì, eh certo, eh certo. E poi ti mettono tutto questo. Ok. Ma lì c'è un robot per tornare indietro anche. Qua si può tornare indietro. Non capisco il motivo. Però si può fare. Qua c'è? Qua c'è? Ah, per andare là. Ok. Ma che... Che diavolo? Ah, fermi. Fermi, fermi. Fermi. Te non mi sfuggi. Te non mi sfuggi. Te non mi sfuggi. Cacchio, io che me ne stavo andando. Devo sfruttare di sicuro questo. Questo qua grosso. Magari lì poi al posto che... Girare qua, io me ne vado. Oh. Ok. Spadone da soldato. Che non lasciamo lì ovviamente. Ok. Facile. Questo è stato facile, mi è piaciuto. Mi è piaciuto perché... Non lo so. Mi piace... Mi piace troppo sta roba. Di sti micro dungeon. All'interno del mondo. Che è enorme. Mi piace... Non lo so. Perché... E che poi ognuno è diverso dall'altro. A parte quello lì della... Dell'insettino. Quello del mini guardiano. Oddio, ma questo è senza cosa? È senza maschera? Gli altri ricevano tipo delle... Una maschera davanti? Questo no. Ed è mi sa in un'altra posizione. Anche i guardiani mi sa che sono tutti diversi. I cosi lì. No, non lo so. So solo che... Sta roba è... È fatta troppo bene. È fatta troppo bene. Ma perché? Perché poi è il quinto questo, mi sa. Se quattro le abbiamo trovato all'inizio. Poi ne ho fatti altri quattro. E io non sono uscito da sta area. Quindi questo è il quinto. Mi piacerebbe più che altro... Bravo Francesco che mi aspetti. Ah no, ma sono uscito. Sono uscito, infatti. Questa cos'è? Ok. Ok. Sono uscito dalla zona, infatti. Vabbè. Ce l'avevo davanti. Non ho controllato. Perché se no lo segnavo e basta. Già che lo sapevo. Devo capire solamente... Eh... No, no. Dove stai andando, Francesco? Che poi ti blocchi, non sai più uscire. Dai. Oh. Fami i cuoricini, dai. Voglio bene. Quanta bella gente. Quanta bella gente. Quanta bella gente. Quanta bella gente. Tutti quelli sono morti. Gnam. Buono. Stavate pranzando, per caso? Vi spiace. Non l'ho fatto mica apposta, eh. Capitavo. Quella roba là è vivo? Spero di no. Arco da soldato. Forse un pieno. Ormai c'ho solo archi da soldato. Solo quelli. Aspetta, questo che punta è? Questo punto l'ho già... Non l'ho visto. No, perché siamo nella zona nuova sempre. Siete, tipo un'area di confine, ok. Va bene. Eh... Ragazzi. A quanto pare... Penso di aver concluso l'area. Perché se... Ho fatto fatica a trovare il quinto dungeon. Ma era nella zona nuova. Mi sembra... Mi sembra... Logico che... Che ce ne siano quattro. Probabilmente quattro a zona. E... E li abbia già fatti tutti. C'erano quelli che c'erano da fare. Qui sotto cosa c'è? Sì, ma lì mi metti uno scrigno. Ma io se... Ma io mi chiedo... Mi fai stupido? Dai. Abbastanza stupido, a quanto pare. Abbastanza. Opale. Stavo dicendo... Che... Questa è la zona di confine. Quindi probabilmente... Non c'è più... Non c'è più nulla. Dovrei provare a esplorare... Il... Dall'altra parte. Ovvero... Io adesso sono qua... Vado più verso tutta la parte destra. E... Francesco vieni qua, va là che... Si sa mai. Comunque... Eh... Ragazzi... Io penso che termino con l'episodio. Nella prossima parte... Completiamo tutta la parte destra. E poi c'è da tornare dalla tipa a dargli la carne. Quindi... Ricordatevelo... Anche se... Non servirà niente perché... Io registro di continuo. Va bene. Ci vediamo alla prossima parte su Zelda. Qui dall'Anulf è tutto. Ciao a tutti.